che oggi devono giocare a guardie ladri con questi mentecatti vorrebbero passare altrimenti il loro sabato pomeriggio e io spero che chi sta, fra virgolette, contromanifestando a suon di lancio di oggetti e di bombe carta col volto coperto stia in galera per qualche settimana, così magari si rinfresca le idee e prima di tornare in piazza a rompere le scatole ci penserà due volte perché non è democrazia, non è libertà, non è rispetto quindi per quanto mi riguarda se mai andremo al governo come andremo prima sgomberiamo i campi rom e poi i centri sociali abusivi che hanno la stessa valenza sociale perché il contributo alla società dei campi rom e dei centri sociali è pari allo zero sono la stessa roba, sono esattamente la stessa roba quindi noi stiamo lavorando per un Piemonte normale, per un'Italia normale non in assetto da guerra, dove la gente faccia una cosa che per qualcuno pare strana che è lavorare oggi c'è la polemica fra Renzi e Landini il giornalista mi ha chiesto se io preferisco Renzi e Landini sono entrambi pessimi perché sono entrambe facce della stessa sinistra medaglia per cui vengono prima i diritti degli altri e solo dopo vengono i diritti degli italiani per quanto mi riguarda sia Renzi che Landini potrebbero andare dall'altra parte del pianeta a fare politica perché sono entrambi assolutamente contro quello che è il futuro di una società tranquilla il Jobs Act il Jobs Act contro cui stiamo ragionando se muoverci in massa è un regalo ai grandi è un'ipoteca sul futuro dei nostri figli è un'altra manovra come gli 80 euro per intanto assumi un po' di persone perché per tre anni non paghi una lira poi fra i tre anni potrai lasciarli tutti a casa intanto io i voti li ho presi Renzi è un pericolo pubblico io non voglio per i nostri figli una società basata sul precariato sull'incertezza e sul nulla e quindi se non si muoveranno i sindacati che peraltro sono al servizio dei poteri forti come contro quella schifezza della legge Fornero ci muoveremo noi per dare diritto ai lavoratori e agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani e agli anni quelli piccoli perché non tutta l'impresa è Confindustria, è Marchionne o è Fiat perché l'Italia, perché il Piemonte, perché anche Torino e soprattutto l'artigiano, il commerciante, il piccolo e medio imprenditore che ha bisogno di pagare meno tasse non aspetta di licenziare qualcuno ma aspetta di assumere qualcuno se paga meno tasse quindi la nostra battaglia non è precarizzare il mondo del lavoro ma è far pagare meno tasse agli imprenditori che possano respirare come in tutti i paesi civili e quindi su questo ce la metteremo tutta la faccia di Renzi e di Landini che per quanto mi riguarda non sono il futuro per i nostri figli un paese normale dove viene cancellato il reato di eccesso di legittima difesa perché ognuno ha diritto di difendersi come vuole se entri in casa mia, nella mia azienda, nel mio negozio rischi di entrare in piedi e di uscire esteso e questo lo metti in conto perché che vadano processati coloro che si difendono è una follia però in un paese normale non succede quello che sta succedendo oggi a Brescia dove c'è la protesta di alcune migliaia di immigrati clandestini che chiedono il permesso di soggiorno ma voi ve lo vedete in Svizzera un corteo di 2000 clandestini o in Austria, in Canada, in Australia in un paese normale alcune migliaia di clandestini che manifestano perché non hanno i documenti vengono identificati e messi sul primo barcone che li riporta a casa loro in quanto clandestini e poi manifesta a casa tua non è possibile che però l'Italia non è un paese normale gli ospedali io contesto Chiamparino non per le firme false su quello saranno i giudici a doversi pronunciare ammesso e non concesso che a Torino, in Piemonte ci sia qualche giudice che ha voglia di fare il suo lavoro e di merizzarsi lo stipendio a fine mese e questo lo verificheremo nelle prossime settimane io a Chiamparino io a Chiamparino ragazzi, posso finire? grazie io a Chiamparino contesto il fatto che ha preso i voti promettendo quello che non sta facendo in Lombardia e in Veneto gli ospedali non solo non li chiudiamo ma li apriamo la sera e nei fine settimana per ridurre le liste d'attesa e permettere alla gente di andare a farsi visitare anche alle 10 di sera se non sei capace di farlo in Piemonte dimettiti non rovinare degli ospedali che hanno decenni di storie alle spalle quindi Chiamparino se ne deve andare a casa non per le firme ma perché non è capace di fare il presidente della regione Piemonte come Fassino che ho visto che è stato male a cui faccio i migliori auguri di cuore perché un conto è la politica un conto è la salute guarisci come persona ma politicamente parlando lascia perdere perché fare il sindaco di Torino non è esattamente il tuo mestiere quindi piena salute ma che lasci fare il sindaco a qualcun altro in un paese normale chi paga le tasse fa il suo lavoro in un paese normale i taxisti sono liberi di fare i taxisti e le multinazionali vadano a rompere i coglioni da un'altra parte e non nelle città italiane perché se vogliono sfruttare i lavoratori lo facciano da un'altra parte e non in Italia tante cose ci impegniamo a fare abbiamo bisogno di voi alleati di chi? non lo so io ringrazio chi è in questa piazza però non ho tempo per occuparmi di alleanze di equilibri di alchimie noi stiamo portando avanti un progetto di vita prima ancora di politica che prevede una Torino diversa un Piemonte diversa un'Italia diversa e un'Europa diversa quindi chiunque voglia condividere un tratto di strada con noi deve avere ben chiaro che noi siamo alternativi alla concezione della vita che ha la sinistra per cui viene prima di tutto lo Stato chi vuole fare un tratto di strada con la Lega deve aver presente che prima viene l'uomo viene la donna viene il cittadino poi viene lo Stato lo Stato ha torto a prescindere quindi l'accertamento fiscale non è l'agenzia delle entrate che lo manda a casa è il cittadino che deve mandare un accertamento fiscale allo Stato italiano ladro, mafioso e corrotto è lo Stato che deve dimostrarmi come sta spendendo i soldi che estorce a chi produce in questo paese in uno Stato normale poi a Pasqua è Pasqua e non esiste che ci siano degli insegnanti o dei dirigenti scolastici che impediscono le benedizioni pasquali a Pasqua è Pasqua a Natale è Natale e nasce Gesù Bambino se non ti va bene andale il mondo è grande il mondo è grande ma non è un problema religioso è un problema di rispetto perché ieri è stato espulso un altro imam visto che bisogna non è un pericolo non è un pericolo l'islam integralista non è un pericolo ieri in provincia di Lucca ne hanno preso uno di 30 anni sposato con un'italiana e con due figli quindi il classico che in televisione ci direbbero ben integrato ma come lavora? fa l'operaio è sposato con un'italiana ha due figli piccolo problema si sono accorti che durante i suoi sermoni da imam istigava all'odio etnico razziale nei confronti dell'Occidente e degli italiani l'hanno preso di peso e lo espelleranno in Marocco e se uno che dorme come Alfano ritiene che uno sia pericoloso questo deve essere proprio pericoloso perché se ci arriva perfino Alfano il fatto che questo è pericoloso vuol dire che questo è pericoloso forte quanti ne abbiamo quanti ne abbiamo di imam ben integrati come questi in giro per il Piemonte dobbiamo aspettare che qualcuno tagli la gola qualcun altro per renderci conto che bisogna bloccare qualsiasi tipo di immigrazione e badate bene che noi pensiamo a una società tranquilla la regione italiana che integra meglio l'immigrazione è il Veneto dove ci sono 500.000 immigrati per bene che lavorano che pagano le tasse che mandano i figli a scuola e che non rompono le scatole il mio problema non è l'immigrato il mio problema è l'invasione clandestina che porta allo scontro sociale io non voglio che sbarchi più un solo immigrato clandestino in Italia quando andiamo al governo noi le navi della marina militare le usiamo per respingere i barconi non per andare a prenderli in mezzo al mare per difendere i confini altrimenti cosa festeggeremo a fare il 24 maggio il secolo della grande guerra allora i nostri bisnoddi combattevano perché dal Piave non doveva passare lo straniero adesso lo straniero lo andiamo a prendere direttamente a casa sua non esiste io il 24 maggio tornerò sul Piave perché i confini vanno difesi i confini vanno difesi punto sembrano cose straordinarie sono cose normali quindi io vi garantisco l'impegno l'onestà la trasparenza il lavoro la fatica e voi ci dovete mettere tutto il resto ogni giorno ogni giorno per ragionare con le persone che sono sfiduciate e che hanno paura io la prossima volta che vengo a Torino però non voglio vedere le grate di ferro io la prossima volta che vengo a Torino come a Genova come a Bologna come a Milano come in qualsiasi paese civile pretendo che io e voi possiamo esporre le nostre idee serenamente pacificamente e tranquillamente potremmo non piacere a qualcuno questo qualcuno contrapporrà delle idee alle nostre idee ma io non vorrei che questo clima di tensione sociale fosse alimentato da qualcuno facesse comodo ai Renzi ai Fassino ai Chiamparino che vedono che la Lega cresce e allora basta il titolo della Stato